La Igueglia lancia il calendario dei grandi eventi per l'estate. L'annuncio arriva dal sindaco Franco Maglione che evidenzia come il comune voglia puntare su iniziative consolidate e feste per tutte le famiglie. Tra i grandi eventi spiccano il Perkfest a giugno con i concerti jazz dei grandi artisti internazionali giunto alla 22esima edizione e poi l'undicesima edizione della rassegna Queste piazze davanti al mare che porterà nel centro storico di La Igueglia a luglio il gota della musica d'autore con il patrocinio del premio Tenco e la partecipazione dei principali festival di settore. Il 20 e 21 maggio ci sarà invece la quarta edizione di La Igueglia è dei bambini cui sarà per la prima volta abbinato lo scilifondo di La Igueglia on the beach. Tanti gli eventi dedicati alla tradizione tra questi nella settimana dal 24 al 29 giugno La Igueglia riviverà la sua tradizione marinara con l'evento di azzurro in mare in tavola in piazza. Agosto sarà dedicato ad una settimana tutta da vivere che anticiperà lo sbarco dei Saraceni, una rievocazione del tutto originale tra fuochi d'artificio e musica.